Buonasera a tutti gli ascoltatori e rieccoci qui per una nuova puntata dell'imprenditore e gli altri. Vorrei iniziare velocemente questa puntata perché proprio in questo momento sta succedendo qualcosa di particolare a Messina. Il sindaco di Messina in questo momento è un po' innervosito e sta bloccando i traghetti che arrivano a Messina. Quindi praticamente non fa uscire nessuno dai traghetti. I lanci che leggo così in diretta con voi, ma se abbiamo il filmato in questo momento della trasmissione che c'era su Facebook fino a pochi secondi fa. non avevo assolutamente l'umore. Quindi ho evitato qualunque palcoscenico. Mi sono limitato solo alle informative, alla comunità e alle dirette con le nostre reti locali per informare la comunità. Quindi ho tolto completamente, ho rifiutato e vi chiedo scusa ai giornalisti che mi hanno inseguito in questi giorni. Non era per snobbare nessuno, ma era perché non era intenzione mia assumere una visione plateale in termini di media di cidea con i miei provvedimenti. Io li ho assunti perché dovevano essere risolti problemi pratici. È ovvio che oggi lo scenario è diverso. È diverso perché io rischio l'arresto e l'Italia lo deve sapere. Deve sapere perché e quindi è logico che l'Italia deve rendersi conto che quando poi ci sono in trincea i sindaci che sono lì non solo ad assistere ma a sbattersi la testa per trovare soluzioni con le proprie anche fantasie amministrative. Mi permetto di dire perché chi è che poi maneggia l'amministrazione quotidiana riesce anche ad andare oltre il combinato disposto e risolve il problema. Allora l'Italia oggi deve rendersi conto che i provvedimenti che sono stati fatti finora sono in gran parte una finzione. Fino all'ultimo provvedimento che abbiamo aspettato 48 ore di vedere. Io l'avevo già previsto con l'ordinanza 60 dell'11 marzo che si doveva bloccare tutto e nonostante sia stato annunciato come blocca Italia guardando ora il provvedimento abbiamo un'altra posizione insipida che non blocca l'Italia ma continua con quei nì, quei nì che fanno male come il nì nell'uscire di casa che è stato disciplinato dal ministro della salute cioè puoi uscire attorno a casa tua. No non puoi uscire per ora. Che esca chi ha necessità certificate perché magari non sta bene perché ha realmente delle patologie gravi che non può da questo punto di vista avere la possibilità di uscire, di stare dentro e deve uscire. Noi ora continueremo ci sono altri argomenti che voglio affrontare. Beh ha detto cose serie e cose importanti il signor Catena De Luca sindaco di Messina. Ha bloccato i traghetti come ha detto lui stesso ha rischiato l'arresto ma perché? Perché lui ritiene che questo sia un provvedimento ad oggi ancora il provvedimento è moscio ancora il provvedimento non ferma l'Italia. Ma d'altronde abbiamo ancora visto tante immagini. Io voglio solo dire una cosa. Nei prossimi tre giorni lunedì, martedì e mercoledì tutte le aziende, chiunque può ancora prepararsi per poi cominciare quel momento vero di chiusura totale. Allora non è vero che l'Italia ha chiuso domenica sera. È vero che l'Italia chiuderà alla mezzanotte di mercoledì e chiudendo la mezzanotte di mercoledì se la mente non mi inganna dovrebbe essere il 25 e vuol dire che restano otto giorni di chiusura totale. Ce la faremo in otto giorni di chiusura totale a bloccare veramente questo virus? Beh il sindaco di Messina ha perso la pazienza come ha detto lui. In questo momento rischiando l'arresto ha bloccato i traghetti che arrivavano in Sicilia. È una cosa giusta, una cosa ingiusta? Ha semplicemente detto non potete continuare a venire qua e a portare qua evidentemente il coronavirus. Ricordo che è vero che non si possano attraversare comuni ma nei prossimi tre giorni, nuvedì, martedì e mercoledì ancora qualcuno si è potuto permettere di montare su una macchina di servizio, su un taxi e di partire da qualunque regione d'Italia e di arrivare in qualunque altra regione d'Italia. Quindi l'Italia ancora non è bloccata, il provvedimento come dice ancora il sindaco di Messina è un provvedimento all'acqua di Lose, non è né un sì né un no, è un ni, è un so, comunque di fatto andiamo avanti. Sono calati i casi in Italia ma la verità è che sono calati i casi in Lombardia. Finalmente la Lombardia ha cominciato a reagire veramente, evidentemente, vistosamente a questo virus ma vi ricordo che è stata la prima a tentare di prendere provvedimenti molto pesanti e meno male in Lombardia forse si tira una boccata di ossigeno, di aria e in questo caso questo veramente può essere detto perché è metà dei casi. Ma se la Lombardia ha metà dei casi il resto d'Italia a mio avviso non sta bene e il sindaco di Messina ha una reazione. Va bene, chiudiamo col sindaco di Messina, è una cosa che sta accadendo in questo momento e è accaduta in questi minuti, abbiamo voluto dirvela perché non è trasmessa in nessuna emittente televisiva nazionale e noi per primi ne abbiamo parlato. Detto questo abbiamo in questo momento dovremmo avere, ricominciamo la vera trasmissione perché dovremmo avere in collegamento il dottor Giuseppe Labbate, sottosegretario alle politiche agricole e alimentari. Ecco, buonasera, buonasera Labbate, buonasera. Buonasera Salve. Buonasera. Certo che lei ultimamente vive in mezzo ai problemi, prima l'olio e cioè tutti gli olivi della Puglia, ora quest'altra situazione che insomma è forse più drammatica. Dico forse perché non è poco drammatica il fatto che l'Italia abbia perso la potenzialità che aveva sugli olivi e questo tipo di situazione che continua ad andare avanti, o sbaglio? Assolutamente, anzi faccio un appello proprio ringraziandovi per aver toccato questo argomento perché è vero che c'è l'emergenza del coronavirus, però l'emergenza axilella non si ferma di fronte al coronavirus. Quindi questo è il momento in cui bisogna andare nei campi, in tutti quei campi che rientrano nella fascia cuscinetto e nella zona di contenimento a fare tutti quegli interventi agronomici che servono per ridurre la popolazione di sputacchina, quindi dell'insetto vettore che consente al batterio di saltare da un albero all'altro. Quindi siccome tra l'altro poi le temperature elevate, calde che ci sono state in questi mesi hanno anticipato il ciclo biologico proprio dell'insetto che adesso è pronto già per volare. Quindi in questo momento bisogna andare nei campi lì e fare queste arature. Quindi lei mi stia dicendo che in questo momento l'Italia vive di due realtà, in questo caso particolari. In tutte e due c'è un virus, un animale extraumano. Abbiamo il coronavirus 19 e abbiamo il virus dei nostri olivi che ce li sta ammazzando tutti e il problema in questo momento va avanti. Ma scusi, si sta veramente agendo per questo problema degli olivi in questo momento o si è un po' lasciato perdere questo problema? Io vedo, per questo sto facendo appelli continuamente, un certo rallentamento della guardia, cosa che non ci possiamo assolutamente permettere. Tra l'altro ci sono 300 milioni di euro stanziati dal governo Conte proprio per fronteggiare anche l'emergenza. Dottor Labbate, io vedo proprio un fermo per quanto riguarda la situazione e il problema degli olivi. Non ne sento parlare onestamente da mesi. Purtroppo sì, mediaticamente l'attenzione si è concentrata sul coronavirus, però... Ma anche a dicembre, a gennaio non è che se ne parlasse molto, insomma. Noi cerchiamo di fare il massimo, abbiamo approvato il decreto, ho fatto già i primi bandi, alcuni bandi li deve fare la Regione Puglia, come ad esempio quello che serve proprio ad indennizzare i proprietari terrieri delle zone cuscinetto e di contenimento, che devono adesso fare gli interventi di controllo del vettore. E quindi questi 300 milioni sono per la Regione Puglia praticamente, cioè per i lavoratori della Regione Puglia? Per tutta la zona colpita dall'Axidella. E quanto tempo è che la Regione Puglia ha questo denaro a disposizione? Ma il decreto attuativo è stato approvato qualche mese fa, quindi da poco, però bisogna utilizzarne 150 nel 2020 e 150 nel 2021. Ad oggi quanto è stato usato? Ma ad oggi è ancora poco perché sono appena partiti quattro bandi, se ne devono fare altri, però alcuni sono vincolati dalle tempistiche dell'intervento da fare, come ad esempio questo di controllo del vettore. Entro il 30 aprile bisogna assolutamente fare quegli interventi agronomici necessari ed è ovvio che per i proprietari è un costo farlo, avere queste risorse che il decreto mette a disposizione consentirebbe, specialmente anche in questo momento in cui è saltato molto gran parte del lavoro, avere questi soldi significa poter fare gli interventi sostenendo i costi. Ho capito, ma quindi in questo momento, dati i problemi che ci sono, perché poi non so come venga fatto questo intervento, ma diciamo che il coronavirus diventa alleato, il nome esatto è, scusi? Perché prima ho sentito sputacchina? Quello è l'insetto vettore, è un piccolo insetto, una cicalina che avendo un apparato pungente e nutrendosi dell'infragrezza degli olivi salta su una pianta, se quella pianta ha dentro di sé il batterio e il batterio va su questo apparato pungente dell'insetto che lo porta. Quindi mi permetta una battuta, anche l'axidella ha bisogno di un imbecille che la porta da un albero all'altro, siamo allo stesso livello del coronavirus, questi due animali non hanno le gambe e usano le gambe degli altri. Sì, purtroppo sì, con la differenza che la sputacchina lo fa per sopravvivere. La sputacchina diciamo che ha un vantaggio rispetto a noi, noi invece, ha visto cosa stava succedendo, colgo l'occasione, a lei lo dico come sottosegretario, ha visto il sindaco di Messina, ha bloccato i traghetti, è roba di 3-4 minuti fa, ha bloccato i traghetti, non ha permesso a nessuno di uscire, ha contestato i provvedimenti presi dal governo Conte dicendo che sono provvedimenti ancora musci, questi tre giorni che ci sono per preparare, troppa gente sta ancora arrivando in Sicilia e lui dice che non va più bene. Allora, io dico che al di là di tutto non è il momento di fare polemiche, anche perché il Ministero delle Infrastrutture ha già vietato il trasporto marittimo di viaggiatori da e verso la Sicilia, quindi è già sospeso, salvo per casi particolari come persone che devono rientrare ad esempio dal lavoro, quindi questo è stato fatto proprio qualche giorno fa. È ovvio che fa benissimo il sindaco a controllare, ad aumentare i controlli affinché venga rispettato questo decreto. Dottor Labbate, il sindaco sosteneva che le persone che stavano arrivando in Sicilia non erano tutti lavoratori quotidiani che andavano e tornavano, ma erano persone che stavano rientrando in Sicilia, per questo lui si è innervosito e ha bloccato tutto, rischiando anche l'arresto, perché stava affermando un servizio pubblico importante e quindi lui ha proprio fermato tutto, non ha permesso di scendere dai traghetti. In assenza anche di un'autocertificazione che sostenga i motivi per cui ha consentito lo spostamento, ha fatto benissimo affermare il tutto. Purtroppo serve anche molto buonsenso da parte di tutti i cittadini per fermare questa epidemia. Noi dobbiamo capire tutti insieme che il virus si muove solo perché non gli consentiamo di muoversi, quindi dobbiamo stare in casa, dobbiamo limitare i contatti, lavarci le mani, usare tutte quelle precauzioni che ci sono state dette. Poi è anche vero che le misure più restrittive sono entrate in vigore da più di una settimana circa e i dati che noi fino a oggi, a ieri, avevamo erano relativi sempre ai comportamenti di due settimane fa. Quindi noi gli effetti della prima restrizione li vedremo nei prossimi giorni. E già ovviamente non lo possiamo dire, non possiamo cantare vittoria. Lo possiamo sperare però, possiamo sperare che succedano cose buone. Però già oggi e ieri i dati sono stati più clemente, quindi ci fanno capire forse che stiamo nella direzione giusta. Onorevole, mi permetto di dirle che i dati sono giusti per quanto riguarda il Piemonte, che ha dimezzato i propri nuovi malati, ma le altre regioni d'Italia sono standardizzate con un lieve aumento in questo momento. Quindi il Piemonte sta risolvendo, perché i dati sono un po' falsati, i detti in generale. Il Piemonte sta risolvendo i propri problemi o pare li stia risolvendo, comunque sulla buona strada. Le altre regioni italiane direi di no. Se facciamo un parallelo tra ieri e oggi, mentre il Piemonte è in calo e per la prima volta vediamo dei numeri anche nel generale che sono diversi. Faccio un esempio per esempio con il Lazio, che ieri stava a 1.272 malati e ad oggi sta a 1.414, quindi circa 160 in più. E così vale per tutte le altre regioni d'Italia, Puglia compresa. Quindi mentre il Piemonte ha una fase discendente, le altre regioni no. C'è da dire anche perché in alcune regioni del nord le misure più restrittive sono arrivate prima. Molto prima. Poi si è avuto anche l'effetto di molti cittadini che sono rientrati al sud, quindi quella azione che è stata compiuta più di una settimana fa da quei cittadini, è ovvio che emergono adesso le conseguenze. Quindi siamo sempre sfalsati di circa un paio di settimane. Onorevole Labate, siccome il tempo è tiranno, io vorrei entrare un po' dall'argomento con lei e l'argomento che voglio trattare con lei è la nostra agricoltura. Coronavirus e l'agricoltura italiana. Che danni sta subendo secondo lei l'agricoltura italiana? Vedo che lei è molto attivo e vedo che lei, devo dire, non è stato con le mani in tasca. È una persona che si è prodigata per la nostra agricoltura. Ma lascio a lei la parola. Qual è il guaio? Sì, grazie. Cerchiamo di fare come governo il massimo per stare accanto alla nostra filiera agricola a cui va tutto il mio ringraziamento e credo che anche tutti gli italiani dovrebbero ringraziare le imprese agricole, le imprese di pesca, tutti i nostri allevatori, i trasformatori, i lavoratori che si regano nei campi e negli stabilimenti. Perché non è banale, ma la certezza, e la garanzia di poter andare in un supermercato e trovare i prodotti che quotidianamente in tutto l'anno si consumano per la propria dieta è un messaggio di sicurezza e tranquillità che viene dato a tutta la cittadinanza. Pensate cosa dovesse accadere se domani mattina andassimo in un supermercato, in un negozio e non trovassimo la pasta. È molto vero, quello che lei sta dicendo è vero. Sarebbe un caos. Quindi a pari di come ringraziamo tutti i nostri medici o penatori sanitari, io credo che questo ringraziamento va fatto a tutta la filiera primaria italiana. Detto questo, le difficoltà è ovvio che anche qui ci sono e sono molte. Innanzitutto abbiamo affrontato subito il problema dell'export, perché quando sono aumentati i casi di coronavirus eravamo solo noi in Italia ad avere un certo numero di casi, mentre negli altri paesi ancora non c'era nulla, per il semplice fatto che noi cercavamo il virus, gli altri no. E quindi questo ha creato dei momenti complessi nell'export perché anche alcuni hanno voluto approfittare di questo momento di debolezza del paese, quindi chiedendo delle certificazioni virus free completamente assurde. Onorevole, mi permetta una cosa. Ci sono persone che quindi hanno pensato che l'arancio italiano che andava praticamente in Francia non era mangiabile perché sulla buccia c'era il coronavirus, in sintesi. Questo è stato un po' il pensiero che è stato fatto. La stessa cosa per tutti gli altri nostri ortaggi, cosa che poi direi si può anche risolvere in maniera semplice, mai fosse stato così, lavando in maniera accurata la frutta prima di usarla, insomma. E la mucchina, fortunatamente come tanti altri prodotti, mi sembra di ricordare che il coronavirus è, diciamo, allergico al cloro, quindi basta un po' di cloro per risolvere il problema, insomma. Diciamo che se buttiamo una mela in una piscina la mela si disinfetta, ho capito male? Il problema non c'era neanche, infatti l'EFSA poi ha diramato un comunicato dicendo che non c'era pericolo nel consumare gli alimenti, di poter contrarre il coronavirus. Quindi comunque sia abbiamo fatto un lavoro, siamo intervenuti con tutta la nostra diplomazia per risolvere problemi che abbiamo avuto in Polonia, che abbiamo avuto in Austria, che abbiamo avuto in Slovenia, che abbiamo avuto in Austria. Onorevole, le voglio fare però un'altra provocazione per quanto riguarda il mercato italiano, perché la fortuna è una idea bendata, ma il proverbio dice la sfiga ci vede benissimo. Adesso anche il mercato ortofrutticolo di fondi, che è forse il più grosso d'Europa, o uno dei due più grandi d'Europa, è abbastanza in crisi, perché fondi è zona rossa, il comune di fondi è stato chiuso in entrate e in uscita, il mercato ortofrutticolo, se non sbaglio il MEF, lavora praticamente cinque giorni a settimana, perché per due giorni si deve disinfettare tutto, lavora fino a mezzogiorno, insomma questo crea problemi anche all'agricoltura italiana o no? Certo, crea problemi, bisogna trovare ulteriori sbocchi anche di mercato, per questo anche nel decreto abbiamo messo ulteriori soldi per rafforzare l'internazionalizzazione dei nostri prodotti, quindi stiamo cercando di dare tutto il supporto possibile, oltre a tutte quelle misure economiche, quindi di sospensione del pagamento di rate di mutui, di versamenti contributivi da fare, poi abbiamo stanziato un fondo di 100 milioni di Euro per poter ristorare gli interessi passivi dei mutui degli ultimi due anni. Onorevole, ma la Cofagricoltura ha detto che questo non basta, i soldi non bastano, come rispondere allora? Perché loro dicono che il settore è molto in crisi, ci sono aziende agricole che non ce la faranno a riprendere, i prodotti vengono distrutti all'origine, ora non esiste più nemmeno tutta la filiera, perché ci sono solo i negozi alimentari, non ci sono più i ristoranti, insomma mancano tantissimi sbocchi, gli alberghi e quindi loro dicono i soldi sono pochi, quello che è stato stanziato dall'Italia è poco, chiedono un intervento europeo, che cosa possiamo dire? Noi abbiamo stanziato in prima battuta 25 miliardi di Euro che con tutte le misure che si attivano arrivano a muovere circa 300-350 miliardi. Ma questo è per tutta l'Italia, onorevole? Per tutta l'Italia. Il comparto agricolo invece, quanto tocca a loro? Successivamente, quindi adesso abbiamo stanziato misure per mettere in sicurezza, loro va un fondo di 100 milioni di Euro per gli interessi passivi, un fondo di 50 milioni di Euro per gli indigenti, che ci servirà anche per fare misure di mercato proprio per cercare di contenere anche la domanda e quindi la produzione. Poi c'è un fondo di 80 milioni di Euro di garanzie Ismea per poter avere liquidità. In più ci sono tutte quelle misure che valgono per tutte le aziende, quindi la cassa integrazione in deroga anche in agricoltura, la sospensione di moti, la sospensione di tutte le tasse da pagare. Quindi c'è tutto quel pacchetto di misure che riguarda poi, tocca anche il settore agricolo. Ma comunque sia, successivamente, quindi nel mese di aprile, ci sarà un ulteriore decreto, che chiameremo crescita, in cui saranno stanziate ulteriori risorse che ci serviranno per poter indennizzare quelle imprese che hanno subito un danno con un calo di fatturato evidente a causa del coronavirus. Onorevole, in questo momento le imprese agricole possono lavorare o no? Assolutamente sì, le imprese agricole possono lavorare e possono lavorare anche tutte quelle imprese collegate alla produzione. E per quanto riguarda i sistemi di sicurezza delle imprese agricole c'è qualcosa in più rispetto alle norme per tutti? La distanza, la mascherina o c'è anche qualche altra aggiunta? È stato siglato anche lì un protocollo per la sicurezza dei lavoratori e anche questo è ovvio che ha messo in difficoltà le imprese e ha rallentato anche la produzione, perché possiamo immaginare dove in uno stabilimento dove lungo una catena c'erano 50 dipendenti uno accanto all'altro, adesso devono stare uno ad un metro all'altro, quindi ce ne sono la metà. Un metro forse è poco, diciamo un metro e mezzo o due, perché insomma un metro è molto a rischio. La distanza sì, quella di sicurezza di vita, quindi anche lì è per questo che io ringrazio ancora per questo enorme sforzo che tutto il nostro comparto primario sta facendo. Onorevole, io la ringrazio per adesso, come dicevo prima il tempo è tiranno, lei però è stato esaustivo, preciso, perfetto. Mi sembra che lei nella sua vita però c'entra poco con l'agricoltura, sbaglio, lei è laureato in ingegneria, in informatica, come? In informatica, sì, in informatica, quindi come si trova un informatico, una persona quindi direi precisa, anche se fantasioso, perché diciamo nel mondo dell'informatica si fanno tante cose, come si trova in agricoltura? Ma adesso tutta l'agricoltura di precisione si basa tutta sull'informatica. Lo sapevo, adesso per mangiare una banana bisogna sbucciarla da una maniera... Va bene, va bene, io la saluto, la ringrazio anche per la sua simpatia, grazie, il momento è difficile, so che state lavorando intensamente, posso farle un'altra battutaccia? Assolutamente. Cercate di parlare anche con l'opposizione, che l'altro giorno ho mandato un messaggio a un amico senatore, non sapeva nemmeno niente, va bene, ci lasciamo così, arrivederci, arrivederci, bene, bene, abbiamo parlato con l'onorevole Labbate che ci ha un attimino spiegato velocemente, il tempo è tirano, un'ora sembra lunga, invece poi diventa cortissima, cosa succede in questo momento nel comparto dell'agricoltura? Adesso cambiamo un attimino argomento, comunque un comparto che dovremo rivedere e che potremo rianalizzare, perché fa parte della nostra economia, ma di un'economia poi forte, ma non solo forte, come diceva giustamente l'onorevole, quell'economia che poi troviamo tutti i giorni sulla nostra tavola e che delle volte ci dà anche il buon umore, pensate domani mattina andare in un supermercato e non trovare la verdura, non trovare un'insalata, non trovare la frutta, per noi italiani questo vorrebbe dire veramente che la guerra è andata avanti, trovare invece questi prodotti vuol dire pensare che c'è un futuro più vicino a noi, un buon futuro. Bene, adesso però cambiamo argomento, vorrei tornare nella sanità e vorrei parlare con il dottor Alberto Plaza che dovrebbe essere in linea in questo momento, il dottore è un pediatra, non vorrei sbagliare, e lavora presso un ospedale di Napoli e con lui tenteremo di parlare del coronavirus e dei bambini. È in linea il dottor Plaza? Sì, buonasera, vi vedo. Buonasera, buonasera, buonasera professore. Allora, prima di tutto la ringrazio di essere venuto dopo una giornata di lavoro che immagino non sia ormai più né gradevole né piacevole, ma semplicemente spaventosa per tutti voi del comparto sanitario, specialmente chi poi è destinato ad andare dentro un ospedale, sbaglio qualcosa? Assolutamente no, stiamo vivendo dei momenti bruttissimi, forse i più brutti della nostra vita professionale. Non v'è dubbio, in questo momento quando lei dice i più brutti della vostra vita professionale io metterei la crocetta sulla casella, perché credo che in questo momento è così e spero che non ci capiti nella nostra vita di vederne un altro di momenti come questo, perché questo è un momento veramente brutto. Senta, le faccio due domande così a bruciapelo, prima di tutto lei, se non sbaglio, opera in un ospedale a Napoli, giusto? Operavo fino a qualche tempo fa, dopo 32 anni sono andato io perché appunto tra i tagli hanno chiuso anche la pediatrica a Carderelli, che era uno dei punti di riferimento dell'Italia centro-meridionale. Una figata stupenda, cioè tra i tagli si chiude la pediatria, facciamolo questa domanda, cosa ne pensa lei di questa cosa? Ma assolutamente no, guardi, io ho lavorato 32 anni in questo ospedale, che è un ospedale di frontiere, eravamo in trincea e quindi abbracciavamo un'area tra le più popolate di Napoli, popolose di Napoli. Dove oltretutto non mancano bambini, perché a Napoli mi sembra che il problema della demografia non esiste. Poi hanno cancellato appunto il nostro ospedale, sono tutti quanti, in effetti i nostri colleghi sono stati tutti quanti cooptati dal Santo Bono, che è l'unico punto di riferimento per la pediatria di Napoli. Quindi lascio immaginare in questo periodo a Santo Bono che cosa ci può essere, quindi è tutto. Insomma, faccio bene le conclusioni. Vabbè, diciamo non andiamo, non andiamo, apriremo un capitolo diverso, lo facciamo al limite a fine coronavirus, sarà un argomento però da riprendere. Mi permetta però, allora, una domanda professionale. Secondo lei perché fortunatamente, e va sottolineato tre volte in rosso, perché fortunatamente i bambini o i ragazzi fino a 19 anni, 20 anni, non prendono il coronavirus? O almeno se lo prendono, diciamo per ora, quello che abbiamo visto, mi sembra a livello scientifico, è che questo coronavirus a loro non fa male, come a noi. Vede, Bandecchi, questa è una domanda che io mi aspettavo, però mi deve dare qualche minuto di tempo, perché in effetti non riprendono la scuola. Le ne do due e mezzo? Sì, due e mezzo, va bene, cerco di essere abbastanza sintetico, quindi diciamo, ci sono varie risposte, cominciamo a considerare che le scuole sono chiuse ormai da più di tre settimane, quindi viene a mancare il contagio, gli ospedali non sono più pieni come una volta di bambini, gli studi medici non sono più pieni come una volta di bambini, quindi questo sta a dimostrare che allontanando i bambini dalla scuola e quindi evitando il contagio e la prescrittà tra bambini, il bambino sta bene, le telefonate delle mamme non ci sono più, i bambini non vanno più in ospedale, quindi potrebbe essere anche questa una spiegazione del fatto che i bambini non cascono ammalati. Poi ci sono da fare altre considerazioni, il cui vi dicevo, non è una unica, un'unica risposta, esistono anche delle unità individuali, sia in senso positivo che in senso negativo, quindi lei avrà anche una famiglia con tre, quattro bambini, magari uno casca più ammalato e gli altri si stanno sempre bene. Quindi è un'immunità familiare che dovrebbe essere riferita ad un trascorso genetico che va alla notte dei tempi e quindi chiaramente è difficile spiegare. Per quanto riguarda poi i neonati, una risposta certa è rimandata molto probabilmente alla medicina del futuro, perché i neonati difficilmente cascono ammalati, però potrebbe essere, diciamo, l'ipotesi della mancanza di recettori per il virus, cioè il neonato nasce con una quantità di recettori estremamente bassa e quindi il virus non ha possibilità di poter in effetti agire sul neonato. Però queste sono delle ipotesi che probabilmente faranno parte degli studi della medicina futura. Non so se riusciremo a vederla, però diciamo è un capitolo molto importante. Dottor Plaza, speriamo di vederla. Lei ha detto però tre argomenti molto interessanti che sarebbe bello anche approfondire. Ne voglio lanciare un altro. C'è chi ha detto che i ragazzi sono vicini al momento in cui hanno fatto il loro vaccino, c'è tutta una serie di vaccini, mettiamoci quello per il morbillo, tutti i vaccini che vengano fatti, per cui il ragazzo è più immunizzato anche da questo coronavirus. È possibile questo o no? Lei fa una considerazione giusta, per l'amor di Dio, le vaccinazioni molto... L'ho letta, professore. Sì, sì. Le vaccinazioni sicuramente, diciamo, stimolano il sistema immunitario, però il dato verso il quale noi ci troviamo è che per la prima volta sulla faccia della terra, da che il mondo è il mondo, è arrivato un virus nuovo. Quindi la considerazione è questa. Nei riguardi di questo virus non esiste quella difesa immunitaria che si è stratificata nel corso di miliardi di anni e che ognuno di noi ha verso determinate malattie. Quindi le vaccinazioni vanno bene per le malattie normali, insomma, che in effetti combattiamo giorno per giorno. Ma questa è una realtà totalmente diversa, nuova, ed ecco perché ci troviamo in difficoltà nella gestione. Perché siamo totalmente impreparati. È un virus di cui non conosciamo, non conosciamo assolutamente nulla. Tanto è vero che appunto non è possibile creare un vaccino in tempi brevi, perché se fosse stato, diciamo, conosciuto in parte, sotto l'aspetto genetico, sarebbe stata molto più facile per l'industria farmaceutica creare un vaccino. Cosa che purtroppo non è possibile al momento fare. Spero di essere stato... Sì, sì, no, lei è stato estremamente esaustivo ed è un piacere ascoltarla, perché poi, voglio dire, ha una capacità di spiegarci certe cose in maniera, direi, semplice, lineare. Forse perché è abituata a lavorare con i bambini, quindi lei è abituata a spiegare le cose in maniera giusta. Guardi, io non sono uno scienziato, però ho lavorato in un ospedale di frontiera, quindi sono uno abituato a tenere i piedi per tenere a ragionare con il mio cervello di fronte a tutte le malattie. Non faccio evoli pindarici e quindi cerco di fare sempre due più due quando è possibile. Professore, mi ha colpito il fatto che lei mi diceva prima che i bambini hanno meno recettori. D'altronde abbiamo visto che le donne hanno meno recettori degli uomini, quindi vengono colpiti in maniera spesso molto meno violenta. Purtroppo il 70% dei deceduti è uomo, il 30% è donna. E quindi i bambini hanno ancora meno recettori, secondo lei, perché questo tipo... La nascita è probabile, torno a dire è un'ipotesi che si dovrà dimostrare nel tempo, quindi quello che io sto dicendo non è ancora scientificamente avvalorato. Ma ho letto di recente che anche nelle statistiche sotto i 20 anni sono pochi anche i ragazzi che hanno preso questa malattia. Sotto i 10 anni siamo a numeri bassissimi, insomma, o almeno l'hanno presa e poi è stata dichiarata, perché sappiamo che ci sono persone asintomatiche. Uno dei motivi per il quale la scuola è stata fermata è per evitare che il bambino poi asintomatico entrasse in casa e ammalasse il nonno o il babbo. Però Bandecchi, guardi, rimane un po' per tutti, non solo per i bambini della prima fascia d'età, ma anche per i ragazzetti, per gli adolescenti. Anche loro non vanno a scuola da tre settimane, quindi contagi sociali, contagi nei pulmoni, contagi nei treni, contagi tra amici, ma soprattutto contagi con persone adulte che vengono, diciamo, da altre parti d'Italia dove il virus si è, diciamo, diffuso in modo molto più espansivo. I ragazzi che non vanno a scuola difficilmente li riescono ad avere, insomma, io penso che sia questa l'ipotesi. Poi da dimostrare, da dimostrare, chiaro, non è semplice. Professor Plaza, adesso la devo fermare un secondo perché vorrei fare entrare praticamente il nostro rettore, il magnifico rettore dell'Università Nicolò Cusano. Questo emittente è dell'Università Nicolò Cusano e vorrei che ci facesse un attimino compagnia in questa nostra chiacchierata, così anche lui avrà occasione di farle alcune domande. Il rettore è già in linea? Ok, allora c'è una piccola sigla il rettore, mandiamo questa piccola sigla. Benvenuto, magnifico rettore dell'Università Nicolò Cusano, professor Fabio Fortuna. Professor Plaza, noi facciamo sempre una piccola sigla perché il rettore sta qua tutte le sere, se noi e lui poi dobbiamo litigare, in futuro mangeremo insieme tutti i giorni, ora ci vediamo soltanto così, in via telematica. Dopo tre comparsi se vuoi mettere, la prendo anche io. Alla terza comparsa, allora faremo la sigla anche a lei. Alla quarta, alla quarta. Alla quarta, allora. Professor Fortuna, lei ci deve dire qualcosa di positivo per quanto riguarda l'economia oggi o tutto tace? Ma lei mi fa sempre questa domanda, tutti i giorni bandecchi, però si deve rassegnare perché visto che ha delimitato il tempo della trasmissione alla fine del coronavirus, fin quando finirà il coronavirus? Noi avremo poche notizie buone da dare sotto il profilo economico, purtroppo è questa la situazione, non possiamo inventarci nulla, la situazione è complicata, si complica di giorno in giorno perché è evidente che alla forte crisi italiana si sta accompagnando una crisi europea, basta vedere lo sviluppo che sta avendo il contagio in Europa, la Francia, la Spagna soprattutto, oltre 28 mila casi con 2.200 morti. La Spagna spartiscono questo triste primato, hanno il numero più elevato di morti rispetto a tutti gli altri paesi, Cina compresa, e quindi si sta espandendo a macchia d'olio in Europa e nel mondo, per cui alla ipotetica ma quasi sicura recessione italiana che un mese fa già pariva probabile, si aggiunge un fenomeno di recessione globale che è testimoniato anche dagli interventi di questi ultimi giorni del Fondo Monetario Internazionale, oggi di Goldman Sachs che ha detto che il prodotto interno lordo mondiale subirà una contrazione dell'1%, ma i numeri oggi hanno poca importanza, il problema è che la crisi c'è, una buona notizia e la posso dare. Ah, meno male professore, perché sinceramente preferivo parlare già con il professor Plaza, perché a questo punto la sanità mi sa che ci dà notizie migliori rispetto all'economia, qual è la buona notizia? La buona notizia è che le banche centrali si stanno muovendo pesantemente, era partita alla Fed, poi il BCE, nuovamente a sorpresa questa mattina, in tarda mattinata alla Fed, ha detto chiaramente che svilupperà un programma di quantità di visiche, cioè di emissione di liquidità illimitato e sa cosa è successo nelle borse che oggi erano in forte crisi? Le faccio l'esempio del Fuzzimib italiano, perdeva il 4% e ha recuperato insieme alle altre borse europee in un'ora tutto, però poi, però poi Bandecchi, che è successo? Posso fare una battuta, Rettore? Oggi andava in internet un messaggio dove c'era scritto mi ha chiamato la mia banca, ho risposto andrà tutto bene. Certo, ma in effetti dovrà andare tutto bene, perché quando sarà finita questa brutta storia, le banche svolgeranno un ruolo di primaria importanza e dovranno concedere credito, le banche centrali le stanno mettendo in condizione di prepararsi a quell'evento. Rettore, io faccio l'imprenditore, non ci dica queste cose, perché ho visto la crisi del 2008, avevo visto la crisi degli anni 90 e non ho mai visto una banca aiutare chi non aveva soldi, la verità è che le banche i soldi li danno a chi i soldi già li ha, mai nessun imprenditore senza soldi ha preso soldi. È vero, però questa è una crisi differente. Quindi muoiono tutti sicuro a questo giro. No, è peggiore di quella del 2008, le dico una cosa significativa che è un particolare tecnico, però rilevante, BCE ha già disposto che i coefficienti patrimoniali delle banche potranno subire delle variazioni. Mi spiego in termini semplici. Oggi le banche possono espandere il proprio credito in funzione del patrimonio che hanno e ci sono dei coefficienti. Una a otto, una a dodici, cioè posso prestare dodici volte quello che ho in casa. Esatto, in termini semplici e così verrà ampliata questa possibilità, nel senso che la patrimonializzazione, cioè l'insieme di mezzi propri e le banche dovrà essere meno rilevante in modo tale che potranno concedere più credito. L'unica via per uscirne è questa, non ce ne sono altre insieme. Caro Rettore, per quanti anni questa cosa può andare? No, perché mi preoccupo un po', perché io dico ok, cambiamo i coefficienti, diciamo alle banche di dare i soldi, poi fra due anni arriva la Germania e dice stringiamo subito tutti, rispettiamo i parametri e quindi noi veniamo tassati al 300%, già molti imprenditori e io li rappresento in questo momento, sostengono che la tassazione italiana è ben oltre il 70%. Va bene, questo è un altro discorso, però noi siamo in una situazione che purtroppo ci accomuna a tutto il resto del mondo questa volta e questa volta la Germania, pensi che per la Germania oggi ci sono state delle previsioni fatte da loro, anche Scholz ha fatto questa dichiarazione, che perderà il prodotto interno della Germania 2020 almeno il 5%, quindi stiamo tutti sulla stessa barca, certo la Germania è una situazione di partenza differente rispetto alla nostra. Mi scusi però, se la Germania perde il 5%, a noi era stata fatta una diagnosi del 2%, quanto perdiamo noi quindi il 2% e noi il 5%? Guardi, sui numeri in questa fase non si può fare affidamento, sono semplici previsioni e probabilmente sono previsioni che hanno un minimo di attendibilità se il coronavirus finirà in tempi accettabili, ma se dovesse andare per le lunghe succederanno cose di gradulare. Allora professore, le faccio prima una battuta e poi domandiamo al dottor Plaza cosa ne pensa a lui, la battuta è, vabbè non gliela faccio dai perché poi dopo divento cattivo, poi dottor Plaza lei pensa che la situazione si risolverà in tempi relativamente brevi o pensa che la situazione, come penso io, non si risolverà realmente e totalmente prima di oltre metà maggio? Cioè il zero malati l'avremo secondo lei prima di metà maggio o dopo metà maggio? No, è un'illusione questa qui, è una grande illusione perché si sente parlare del famoso picco, insomma tutti si riempiono la bocca con la parola picco, ma il picco non esiste, il picco esiste oggi, poi esisterà fra tre giorni, fra dieci giorni, fra quindici giorni, quando la gente avrà capito che non deve uscire, vede Bandecchi, io non sono uno scienziato, le dicevo prima che faccio il medico con i piedi per terra e lei non fa il medico, le dico due cose, sono molto molto semplici da capire, è meraviglio che gli altri non le abbiano capite, però può darsi che essendo io non uno scienziato, insomma queste cose per me potrebbero essere viste in un'ottica diversa. Esistono le trasmissioni orofecali, cioè quelle che si trasmette tipo il colera, il tifo attraverso le feci e poi ci sono le malattie a trasmissione aerea. La malattia da coronavirus è una malattia a trasmissione aerea, quindi significa che se io e lei siamo a distanza di un metro, un metro e mezzo e lei respira la mia aria e la mia aria è contenuto il virus, lei si contagia, può non avere nessuna problematica legata al virus oppure cascare a malato, il che vale anche per me se io respiro la sua aria. Quindi se dal primo momento si fosse capito che i bambini non dovevano andare a scuola, gli anziani erano quelli più a rischio e quindi andavano educati, codificati a non uscire e fare usare a tutti quelle famose mascherine che poi non si sono trovate, io non avevi assolutamente come virus trovato l'autostrada per andare a crescere, ad espandermi in un altro organismo, quindi l'interruzione e la trasmissione del virus è attraverso la mascherina, cosa che non si è fatto. Quindi dottore mi scusi, ora mi scusi, voglio finire un altro pensiero, non le voglio raggiungere. Quindi se tutti riuscissimo omogeneamente su tutto il territorio nazionale a stare chiusi in casa, ad usare la mascherina, poi lavarci le mani e attuare quelle che sono le misure di igiene normali, nel giro di 15-20 giorni, come hanno fatto i cinesi, noi potremmo riuscire a debellare il virus. Però questo io non lo vedo perché molte strade sono ancora aperte. Stavo facendo una domanda professore, oggi stasera la nostra trasmissione è aperta con il sindaco di Messina che si è un po' stranito e ha bloccato i traghetti e quindi ha detto io non volevo diventare famoso, ma i traghetti non vengono più, qui la gente non ci deve più venire. Quindi chi mette i piedi qua e arriva da fuori non deve entrare. Secondo lei quindi il sindaco di Messina che oggi ha rischiato l'arresto ha fatto bene però a fare un gesto di questo tipo o no? Guardi, a parere mio ha fatto non bene, ha fatto benissimo, strabene. Il discorso è questo, guardi, noi italiani siamo un popolo di persone eccezionali, però quello che a noi manca di italiani è il rispetto delle regole. Le regole non esistono, le regole ce le creiamo noi, però se tu crei la regola e la fai rispettare i cinesi sparando, noi imponendoli al primo momento dicendo guardate perderete i vostri cari, guardate qui si muore, guardate questa è una cosa nuova verso la quale non siamo preparati, allora si sarebbe creato il panico, ma nello stesso tempo il panico avrebbe fatto capire a questa gente che l'aperitivo non si andava a fare, la gita fuori campagna, fuori casa non si andava a fare, il running non si andava a fare. Dottor Plaza, ma oggi lei era a Napoli, come erano le strade di Napoli, nella verità? Ma Napoli è molto grande, guardi, ci sono alcune zone in cui... E nella sua zona com'era? Io non abito a Napoli, abito in provincia, diciamo che è il day after terra, nel senso che c'è pochissima gente, fortunatamente guardi, fortunatamente hanno tutti quasi 100% la mascherina, auto ne vedi pochissime. Quindi l'Italia comincia a capire insomma? Hanno incominciato a capire, troppo tardi, troppo tardi. Vabbè, diciamo che troppo tardi, però meglio tardi che mai, se hanno capito ora, fra 14 giorni potremmo essere in via di risoluzione, anche perché un dato sicuramente è vero, professor Fortuna, lo dico anche a lei, il Piemonte ha trovato una semisoluzione, sono per ora già da due giorni la metà dei nuovi infettati, mentre nel resto d'Italia c'è una crescita, mi dispiace dirlo, forse sono l'unico che la dice, ma almeno del 7-10% al giorno e questo è un dato rilevante. L'abbiamo detto a chiare note da tanti giorni, nel senso che era evidente che bisognava restringere ulteriormente le regole, cosa che è stata fatta tardivamente e anche in modo non chiaro. Nel Lazio da ieri ad oggi la crescita è del 14-15%, è una crescita mostruosa al 15%. Chiariamo un'altra cosa, perché quando si guardano le tabelle è importante, ci sono i positivi, cioè quelli che ancora sono in stato di malattia e poi c'è un numero totale che comprende i positivi, i guariti e i deceduti, per cui anche questo elemento è fondamentale, bisogna prendere due di dati, i casi totali e i positivi, perché ci danno delle informazioni, lei lo sa, non sono medico, ma di numeri me ne intendo e mi piacciono e quindi le tabelle me le sono guardate bene. E dico da giorni che non è tanto significativa purtroppo la piccola diminuzione che abbiamo avuto in questi due giorni per quanto positiva. La Lombardia dà un po' di ossigeno soprattutto al personale sanitario che non riesce più a gestire la situazione, ho sentito anche interviste significative in questo senso, ma la preoccupazione del centro e del sud, perché oggi anche la campagna come casi totali ha superato per la prima volta il migliaio di unità, i positivi sono oltre 900, i casi totali oltre 1000 e si è aggiunta a Toscana, Marche e Lazio, quindi è un segno evidente che c'è una discesa del virus più lenta, perché in qualche modo beneficia di una restrizione che non è stata totale come doveva essere, ma un po' si è ristretto, però bisogna stare attenti. Anche la Toscana è andata al 15%, leggevo oggi una frase che adesso che lei sta parlando di numeri mi viene impresso, non mi ricordo di chi è, gliela sto rubando, ma dice che se metto la testa dentro a un forno e i piedi dentro a un frigorifero ho una temperatura media, quindi non dovrebbe essere morto in sintesi, ma in realtà sarò morto. Ma anche la cosa che diceva il dottor Plazza del picco, innanzitutto ha poco significato in assoluto, a livello nazionale nessun significato, a livello nazionale dare un dato medio in questa fase del picco non ha senso, perché il picco nel centro e nel sud per quanto limitato potrà avvenire solo dopo e non adesso e quindi… Certo, ne parleremo tra 15 giorni, lettore, tra 15 giorni ne parleremo in Sicilia con gli ospedali che si ritrova, la Basilicata e la Calabria chiuso, ma la Sicilia no, il siciliano sta lì, il siciliano infetterà tutta l'isola con gli ospedali che si ritrova, quindi avremo un super super picco, non un solo picco, poi se lo andiamo a fare nella media nazionale probabilmente si spostano anche dalla media nazionale. Vabbè, in realtà infatti il problema è che quando finirà questa crisi, quando sarà estesa, il problema è che nel momento in cui forse il nord avrà cominciato a risolvere realmente il proprio problema, noi dovremmo andare avanti con questa situazione perché al sud questo problema non sarà risolto e purtroppo i camion militari che abbiamo visto al nord rischiamo di vederli anche al sud e rischiamo di vederne anche troppe, questa è una cosa che noi non ci auspichiamo e che speriamo non avvenga, lo stiamo dicendo perché vogliamo che tutti coloro, so che ci sono molte persone all'ascolto da Reggio Calabria, da Palermo, da Catania e dalla Puglia, io dico state a casa perché è vero che pensate andare a fare una corsettina, andate da soli, ma c'è un problema, un problema grandissimo perché se questo coronavirus arriva al sud, a Bergamo hanno visto i sorci verdi, al sud non lo voglio nemmeno sapere, quanti posti, professore che lei sappia a Napoli, quanti posti secondo lei ci sono in questo momento per poter intubare le persone, per poter salvare gente, quanti posti ci sono? Questo non glielo so dire, però tenga presente che sono quasi del tutto occupati da malati in situazioni drammatiche, però si stanno dando da fare, hanno aperto il loro rito nuovo a Napoli, chiamato anche il loro rito mare, dove è stato totalmente, è stato svuotato e totalmente dedicato in effetti gli ammanati da coronavirus. Beh diciamo che il sud si sta preparando forse, non dico meglio, ma si sta preparando, io vedo che anche a Roma, addirittura insomma varie strutture, varie ospedali sono diventati ospedali covid in questo momento, no? Perché ho visto… Posso intervenire? Però vedi, veda Bannecchi, senza voler fare considerazioni di ordine politico o personali, noi abbiamo un Presidente della Regione che è famoso un po' dovunque, imitato moltissimo da crozza, però lui parla il linguaggio che un meridionale può capire, cioè lui scende sullo stesso piano del linguaggio del meridionale e ha dato delle indicazioni che tutti, tutti a 360 gradi hanno capito ed ecco perché io le dicevo, le strade sono vuote per lo meno nel mio territorio, tutti usano la mascherina, quindi si è incominciato a capire il senso di questo dramma che si sta vivendo e quindi ritorniamo a quello che io dicevo in origine, se si fossero imposte, magari anche con un linguaggio diverso, molto più forbito, molto più accademico, determinate limitazioni, probabilmente staremmo qui a parlare della chiusura, della epidemia da coronavirus. Vabbè, io voglio essere ancora positivo e voglio pensare che nelle prossime settimane, anche se onestamente non credo che si risolverà il problema della chiusura totale date queste differenze, diciamo, da una parte cala da una parte aumenta, prima di Pasqua, oggi la Spagna ha esteso la chiusura complessiva sino al dopo Pasqua se non sbaglio, noi invece siamo fermi al tre, questa vera chiusura complessiva partirà, come diceva lei, Rettore, ieri a me, lei ha ragione, tre giorni per mettersi a posto, quindi partirà da giovedì mattina, da giovedì mattina saranno 7-8 giorni di chiusura totale, è vero che il virus, la sua virulenza massima dovrebbe raggiungerla mediamente in 7-8 giorni, ma basterà il tre o sicuramente si sposterà in avanti? Secondo me si sposterà in avanti perché è impossibile pensare che per il tre si risolva tutto e se non si vuole ricadere nei medesimi errori bisognerà andare avanti, magari riampliando un po', però teniamo anche presente Bandecchi e come dicevamo ieri sera, quell'elenco di 80 attività che sono lasciate ancora aperte, è un elenco lungo, tra l'altro… Professore, per ora qualcuno entra in sciopero perché mi sembra di aver capito che i sindacati hanno perso la pazienza e hanno stabilito dal 25 l'inizio di alcuni scioperi, di alcune categorie… No, ma le dico anche di più, che sabato c'era stata una concertazione tra sindacati e governo, hanno dichiarato i segretari, la Furlan e qualcun altro, che poi l'elenco che figura come allegato uno del decreto è differente e comprende molte attività che prima non c'erano, ecco perché si sono arrabbiati. E poi c'è sempre il solito problema che mancano ai metalmeccanici e a tanti lavoratori le protezioni di sicurezza e questo è un altro problema serio, per cui hanno ragione… Ma le protezioni di sicurezza contro il coronavirus? Certo, certo, esattamente. Vi voglio dare una notizia buona però, perché nel mondo ci sono anche persone che hanno buon senso e buona volontà e buon cuore. Noi qui abbiamo nella nostra università alcuni studenti, in particolare uno studente cinese e oggi questo studente italo-cinese ha la mamma in Cina e mi ha chiamato, perché lui è qui e dorme qua dentro e quindi è chiuso con noi da settimane, anzi lui da più tempo, e mi ha detto che la mamma voleva sapere come poteva donare delle mascherine all'Italia e quindi avrebbe voluto mandare qua delle mascherine ed era anche in condizione di poterci trovare dei respiratori. Questo direi che è un gesto comunque buono di una persona che capisce evidentemente queste cose anche se da molto lontano, ma sapete cosa ho dovuto rispondergli ed è qui la provocazione perché il ragazzo è un ragazzo in gamba, la mamma è una donna gentilissima e ho dovuto rispondergli che le mascherine o gli altri apparecchi dovevano arrivare direttamente a Roma, perché se per caso fossero atterrati in Germania o se fossero atterrati in Spagna o chissà dove li sequestravano e al limite non ci davano i soldi indietro dicendo avete pagato, vi ridiamo i soldi, non vi arrabbiate. Vandecchi, qui torniamo all'altro problema dei ritardi e della mancanza di depressività perché questa è come una guerra e quindi vita mea, mors tua, adesso esagero. Rettore ci faccia dormire sereni però il tempo è scaduto, mancano pochi minuti, lei ci dice questa notizia alla fine mi fa già innervosire. No, 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 sto dicendo che le mascherine e questi materiali mancano un po' dappertutto e quindi è normale che altri paesi vedendosi in difficoltà cerchino di tenerselo, ma se noi avessimo pensato magari a riconvertire alcune aziende, non adesso ma un mese fa perché si vedeva che la situazione era abbastanza difficile, forse noi già l'avremmo riconvertire. Abbiamo in questo momento un incaricato che può riconvertire le aziende con rapidità e velocità, io penso che tutte le aziende del settore tessile per fare mascherine ci mettono quattro minuti. Vandecchi, ma non è che adesso è arrivato il salvatore della patria, nel senso che per riconvertire le aziende bisognava pensarci prima, adesso non sarà un uomo che risolve il problema perché il problema c'è. Ma lei voleva dire un uomo solo al comando? Voleva dire un uomo solo al comando? No, in generale un uomo solo al comando non serve mai. Posso fare una battuta e poi chiudiamo? Cioè noi avevamo il problema di un uomo solo al comando e qualcuno della nostra classe politica, non facciamo nome e cognomi, aveva chiesto massimi poteri e non gliel'hanno dati, l'hanno mandato a casa e lui alla fine se ne è andato a casa. Qualche altro se ne è presi questi massimi poteri perché i nostri onorevoli nemmeno si riuniscano più, lavorano un giorno a settimana, fanno ogni tanto così, un incontro, stanno ormai mendicando al Presidente della Repubblica, possiamo lavorare anche noi? Ma mi domando, ma i parlamentari fanno un lavoro utile o fanno un lavoro che non serve a nulla? Ma qui andiamo su campi politici sui quali è meglio non addentrarci. Ma non ho parlato di colori, ho parlato di niente, dai. No, dico indubbiamente, l'anomalia c'è e tutto si giustifica con l'emergenza assoluta, però è evidente che un maggior... Caro lettore, lei oggi ha lavorato, il dottor Plaza ha lavorato, io ho lavorato, mi scusi, i nostri onorevoli prendono lo stipendio anche loro, allora leviamogli almeno il 30% di stipendio come a calciatori, no? Perché se non stanno giocando la partita, anche loro in questo periodo, leviamogli una parte di stipendio, perché guardi... E magari faranno un bel gesto, Bandecchi, non mettiamo limiti alla provvidenza. No, ma non vogliamo un gesto, vogliamo una legge che dice che siccome non stiamo lavorando non paghiamo lo stipendio, puto, che lo prenderà a fare lo stipendio? Cioè usiamo quello stipendio per comprare la mascherina, se no le dico una cosa... Vabbè, non gliela voglio dire, dai. No, non gliela voglio dire. Va bene, io signori vi ringrazio, dottor Plaza, la ringrazio... Io poi non ho chiamato, devo chiamarla professore o dottor Plaza? Dottore, dottore. Mi scusi, allora, quindi dottor Plaza, io la saluto, la ringrazio per la sua precisione, efficienza e per la sua chiarezza, veramente ci ha fatto capire le cose che ha detto, ci sono arrivate chiare. La saluto momentaneamente. Siamo a più uno, a più quattro, voglio anch'io la sigla. Alla quarta puntata le darò la sigla. Buonanotte, dottore. Buonanotte, buonanotte. Caro lettore, come sempre, sul finale, tutti escono dal nostro studio e quindi restiamo io e lei. Restiamo io e lei col bicchiere di vino davanti, anche se qualcuno già sostiene che io ne bevo più di lei, ma non l'ho mai bevuto in tutta la mia vita, a meno che una volta in una cena mi ricordo in Russia, in Ciubascia, che ho bevuto talmente tanto che non mi ricordo più manco come è finita la cena. Comunque, ero a cena con il governo Ciubascio, va bene. Detto questo, e a parte questi ricordi bellissimi, perché era il momento in cui ci si poteva spostare, capisce? Si poteva prendere un aereo. Le faccio una domanda a proposito di aerei. Ci volevano questi vent'anni per riportare l'Alitalia ed essere un'azienda statale? L'Alitalia ha delle vicende veramente difficili. C'è stata un'alternanza notevole, non si è mai riuscito a far nulla di completo, è stata un'amministrazione straordinaria per molti anni. A questo punto, in base al Cura Italia, dovrebbe verificarsi la nazionalizzazione, perché con tutti i problemi che ci sono, che ovviamente colpiscono le compagnie aeree, come il settore del turismo e tutta la filiera di questa tipologia di servizi, in modo incredibile. Quindi l'unico modo per salvarla in questa fase è la nazionalizzazione e c'è un articolo del Cura Italia dedicato a questo. Però si stanno facendo avanti anche, sembra, una quindicina di soggetti interessati. Vedremo come andrà a finire. Certamente il fatto che l'Alitalia rimanga una compagnia di bandiera di proprietà italiana fa piacere anche a noi cittadini. Certo è una vicenda che ha pesato molto sui cittadini italiani. Lei è un buono, a me mi piace perché lei è un buono. Io avevo fatto un disegnino, non lo faccio vedere. Per me sulla l'Italia si è sbagliato tutto dall'inizio. Non ci si è capito assolutamente niente. Proprio da quando è cominciata questa vicenda fino ad oggi. Una serie di schifezze, una marea di denaro mangiato al popolo italiano. Una cosa abominevole. Ce ne fosse stato uno che sapeva gestire un'azienda. E qui mi fermo. Però ho detto quasi tutto sull'Alitalia. Ma posso scendere anche nei dettagli e dire anche perché queste cose sono sbagliate. Perché io non so dire a livello di impresa solo che è sbagliata. Ma anche perché una cosa è sbagliata. E mi meraviglio che in questa nazione dove vedo una marea di geni che nascono ogni giorno. Lì dentro non ce ne sia finito nemmeno uno che sapeva come gestire una compagnia aerea o comunque un'azienda. Perché l'Alitalia è sempre stata gestita come una cosa brutta. E non voglio dire come un ministero. È stata gestita come una cosa che non esisteva. L'Alitalia, nell'Alitalia, dentro l'Alitalia si è sempre comunque sbagliato. Punto. Ed è per questo che è un serpente che si è morso la goda. Siamo partiti con tante chiacchiere. Ci abbiamo lasciato 2 miliardi di euro. E ora ce la riprendiamo. E poi non lo so. Dopo si fanno le feste dentro l'Alitalia quando la riprenderà lo Stato o no? Nel corso di questi ultimi 25 anni. No, dico nel corso di questi 20-25 anni abbiamo perso molto di più di 2 miliardi. Sicuramente è una cifra che è superiore ai 10. Ma al di là di questo la situazione è preoccupante perché ci sono, come lei sa, 150 tavoli aperti su aziende in crisi che non si erano riusciti a risolvere prima del coronavirus. Pensi lei adesso a quali... Io ho sempre creduto nell'Iri, guardi. Se riaprono l'Iri e ricominciano evidentemente a statalizzare tutto, a me fanno un favore. Anche perché i disoccupati sono una cosa che mi ha sempre impressionato. Sono stato disoccupato nella mia vita? Non lo voglio più essere. Credo che se lo Stato si fa carico di una serie di persone che comunque debbano andare a lavorare e debbano lavorare perché l'Alitalia è fallita prima di tutto, perché le agevolazioni che avevano alcuni dipendenti all'Italia non avevano nessune compagnie aeree nel mondo. E c'è sempre un motivo perché le cose non vanno nel modo giusto. Ci sono delle hostess all'Alitalia, e mi scusi se cominciamo a entrare nell'argomento, che stanno a casa da cinque anni perché hanno fatto quattro figli, tre figli, e hanno sempre preso lo stipendio e non hanno mai lavorato. Il problema dell'Alitalia è un problema grave, che va risolto in maniera tedesca, non italiana. Certo, ci vogliono dei criteri di gestione differenti. Mi dicono dalla regia che noi siamo andati fuori. Andecchi, me l'ha fatta venire in mente lei, che tra gli intendimenti europei, perché l'Europa finalmente sembra essere scesa in campo, c'è questa volontà di sostenere gli Stati membri in modo adeguato attraverso il quantità di visi, 750 miliardi, eccetera, attraverso l'utilizzo di fondi strutturali che i vari Stati non avevano in precedenza utilizzato pur avendo la disposizione e poi si parla anche della creazione di un fondo specifico per combattere la disoccupazione. Vedremo come andrà a finire. Va bene, speriamo che vada a finire bene. Io la ringrazio, professore, la saluto. Ci siamo dilungati. Chiedo scusa se ho detto la verità sull'Alitalia, quindi la saluto e le auguro una buonanotte. 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 Bene, anche questa trasmissione è finita e anche questa volta, secondo me, andremo su qualche giornale e su qualche sito specializzato. Abbiamo detto cose purtroppo vere, abbiamo detto cose purtroppo brutte, ma abbiamo detto, come sempre, la nostra verità. E la nostra verità l'abbiamo detto dando la parola a tutti e purtroppo la nostra verità è questa. Io vi ricordo sempre il mio motto. Vi chiedo per cortesia di farlo vostro in queste puntate, in queste serate, perché è un motto che mette, secondo me, allegria, è un motto che mette gioia e che ci dà un po' l'idea di come si deve vivere realmente e come si dovrà vivere realmente la vita. Il mio motto è datemi il superfluo, lascia a voi l'indispensabile. Buonanotte a tutti.